In questo video eseguiremo un esempio di disequazione fratta di secondo grado. La disequazione che vogliamo risolvere è la seguente, x fratto x più 1 meno 3 fratto x più 2 maggiore di x fratto x al quadrato più 3x più 2. Per risolvere la seguente disequazione portiamo tutto a primo membro e nel frattempo scomponiamo l'ultimo denominatore x alla seconda più 3x più 2 e quindi x fratto x più 1 lo ricopriamo meno 3 fratto x più 2 pure e l'ultima frazione portandola a primo membro cambia il segno davanti alla linea di frazione e quindi diventa meno x fratto scomponiamo x al quadrato più 3x più 2 e quindi cerchiamo due numeri tali che la somma è 3 e il prodotto è 2. Questi due numeri sono 2 e 1 e pertanto questo polinomio si scompone come x più 1 per x più 2. La disequazione deve risultare maggiore di 0. Facciamo il minimo comune multiplo. Il minimo comune multiplo tra tutti i denominatori è x più 1 per x più 2. Non svolgiamo il campo di esistenza perché non stiamo eliminando il denominatore come nelle equazioni ma lo studieremo e quindi nel momento in cui studieremo il segno della frazione lo poniamo strettamente maggiore di 0 e quindi non c'è bisogno di fare il campo di esistenza. Quindi linea di frazione al denominatore scriviamo il nostro denominatore che è x più 1 per x più 2 e allora facciamo x più 1 per x più 2 diviso il primo denominatore rimane x più 2 che va moltiplicato per x e quindi scriverò x che moltiplica x più 2. Poi meno 3 x più 1 per x più 2 diviso x più 2 rimane x più 1 quindi meno 3 che moltiplica x più 1 e poi meno x più 1 per x più 2 diviso x più 1 per x più 2 1 che per x fa x maggiore di 0. Andiamo a svolgere i calcoli e troviamo x per x x al quadrato x per 2 più 2x poi meno 3x meno meno 3 meno x tutto fratto x più 1 per x più 2 maggiore di 0. Allora sommiamo i termini simili quindi con la x alla seconda abbiamo solamente x alla seconda con la x abbiamo meno 3x meno x e quindi meno 4x scusate x per 2 questo veniva 2x e quindi con la x alla seconda abbiamo due termini che sono più 2x tre termini sono più 2x meno 3x meno x e quindi il risultato fa meno 2x e poi col termini non abbiamo solo meno 3 quindi meno 3 tutto fratto x più 1 per x più 2 maggiore di 0. Ora come abbiamo visto per le disequazioni di primo grado per studiare il segno della frazione dobbiamo porre il numeratore ogni fattore del numeratore ogni fattore del denominatore maggiore di 0 quindi poniamo x al quadrato meno 2x meno 3 maggiore di 0 x più 1 maggiore di 0 e x più 2 maggiore di 0. Le ultime due sono delle disequazioni di primo grado che possiamo svolgere direttamente quindi x più 1 maggiore di 0 diventa x maggiore di meno 1 x più 2 maggiore di 0 diventa x maggiore di meno 2 per risolvere invece x al quadrato meno 2x meno 3 maggiore di 0 scriviamo l'equazione associata che è x al quadrato meno 2x meno 3 uguale a 0 calcoliamo il delta dell'equazione associata che è b alla seconda quindi 4 meno c e quindi più 12 visto che la c è negativa e quindi uguale a 16 cioè 4 alla seconda quindi risolviamo l'equazione associata e quindi troviamo che x è uguale a meno b quindi più 2 più o meno la radice di delta che è 4 fratto 2a e quindi trovo x con 1 che vale 2 meno 4 e quindi meno 2 mezzi cioè meno 1 e x con 2 che è uguale a 2 più 4 e quindi 6 mezzi cioè 3 allora a questo punto questo dobbiamo controllare dobbiamo controllare come segno di x al quadrato e verso la disequazione segno di x al quadrato e verso la disequazione sono più e maggiore e quindi concordi allora valori esterni quindi x minore del valore più piccolo o x maggiore del valore più grande a questo punto siamo pronti per rappresentare nel nostro grafico le tre condizioni e tre soluzioni dei tre fattori quindi x minore di meno 1 ed x maggiore di 3 x maggiore di meno 1 e x maggiore di 2 allora posizioniamo nel nostro grafico i valori che abbiamo ottenuto dalle singole disequazioni quindi più picco di tutti e meno 2 poi abbiamo meno 1 e poi abbiamo 3 allora la disequazione di secondo grado abbiamo detto che aveva come soluzioni valori esterni tra meno 1 e 3 e quindi meno 1 e 3 li solleviamo alla stessa altezza e facciamo la linea continua all'esterno all'interno della linea tratteggiata visto che è strettamente maggiore in meno 1 e in 3 ci va il pallino vuoto ora rappresentiamo x maggiore di meno 1 quindi solleviamo x maggiore di meno 1 la linea continua a destra a sinistra la linea tratteggiata pallino vuoto andiamo a rappresentare x maggiore di meno 2 quindi solleviamo x maggiore di meno 2 linea continua a destra linea tratteggiata a sinistra pallino vuoto perché è strettamente maggiore facciamo il prodotto dei segni nel grafico quindi abbiamo più per meno per meno e quindi diventa più più per meno per più fa meno meno per più per più fa meno più per più per più più allora noi quali intervalli dobbiamo andare a prendere? per sapere quali intervalli dobbiamo andare a prendere dobbiamo guardare il testo della disequazione quindi la nostra disequazione voleva la nostra frazione strettamente maggiore di 0 e quindi gli intervalli che sono soluzione del nostro grafico sono quelli in cui il prodotto dei segni è il risultato positivo quindi questo e questo qua di qua allora le nostre soluzioni sono le x strettamente minori di meno 2 o le x maggiori di più 3 e con questo ho terminato buon lavoro